Parliamo di questa notizia di passione gastronomia. Hubble e Salbo la NASA è riuscita a ripararlo. Ma cos'è Hubble? Hubble è un megacannolo che è stato lanciato nel nulla dello spazio. Secondo i Nasoni è stato lanciato nell'orbita a bassa terrezza, 300-400 km circa dalla superficie della Terra. Ma esattamente cos'è successo? Le telescopi in pratica si è avuto un quasto. Hanno usato, secondo loro, degli strumenti dopo 30 anni che in opera ci può anche stare in grado di fare un backup e di riavviarlo. In pratica l'hanno riavviato e sembra funzionare ancora. Ma guardiamo soprattutto quella che è la vera notizia che vogliamo dare in questo video. Credit by NASA, la foto della NASA. E cosa scopriamo? Scopriamo che Hubble è terrapiatista. Sì, perché dopo ben 30 anni che in orbita, Hubble ha ancora foto con l'orizzonte piatto. È incredibile. È una notizia che nessuno ancora vi ha dato. Ma comunque voi continuate a credere a tutto. Tanto i pesci nella testa, i pesci.